In quei tempi, diciamo così, c'era il vecchio sistema che Mussolini all'inizio, siccome doveva dichiarare la guerra, cominciò a fare il reclutamento e chiamò i vecchi e i giovani tutti a casa. Chiamò mio padre, che era del 1996, qua ce ne erano le veste, e per esempio mio padre lo mandò, diciamo così, con 4-5 persone a guardare un ponte a Novara di Sicilia. Lì si è presa la malaria. Mio padre, perché l'aveva avuto già nella prima guerra mondiale, in Albania, e poi si è presa la malaria. Comunque, un po' di tempo, un mese, un mese e mezzo fu, diciamo così, richiamato.